Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Com'è? È troppo magro. Questo, piuttosto. Il comandante delle guardie vuole uno schiavo per la sua casa. Ne ho uno che fa il caso di voi. Trenta cicli. Sembra abbastanza sano. Grande potifar. Può andare. Sembra che ci sarà un po' di lavoro da fare. L'umiliazione è il tuo destino. Adesso sei uno schiavo e giziano. È il tuo futuro. Null'altro conta. Di te non resterà che un'impronta. Appartiene a noi, sangue sul cuore. Tutto è nostro ormai, anche il tuo cuore.